La 1 anche Fabregas dall'altra parte, bravo Collarov ad arrivare, adesso Perotti può puntare ancora, è l'1 contro 1, Perotti, Perotti, fino in fondo, Perotti! 3-0 Roma! Che giocata! 3-0 Roma! Perotti a coronamento di una partita fantastica! E soprattutto di un secondo tempo che lo ha visto protagonista, sin dalle prime battute, nella fase non possesso, sempre pronto ad andare in aiuto a Collarov, ma poi più determinato ad entrare nel campo, a Londra era stato un giocatore più pericoloso dei giallorossi, in molte occasioni aveva tagliato il campo, mi sento in grandissima difficoltà, qui, pallone intercettato...